Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del TG6 in apertura alla cronaca giudiziaria con un'ennesima inchiesta che riguarda il post terremoto all'Aquila. Sono 35 questa volta gli indagati e 10 gli arrestati. Sul versante Terramano spicca il nome dell'imprenditore Giampiero Fracassa. Le forze dell'ordine comunque hanno eseguito perquisizioni in quattro regioni. Ci dice i dettagli Daniela Rosone. Il reparto operativo del comando provinciale dell'Aquila comandato dal tenente colonnello Andrea Ronchei e collaborato dai comandi territoriali delle province interessate ha dato corso oggi a 10 ordinanze di custodia catelaria ai domiciliari notificando altri 5 provvedimenti di applicazione del divieto temporaneo ed esercitare l'attività professionale su ordine del GIP Gargarella. I provvedimenti interessano pubblici funzionari, imprenditori e professionisti residenti nelle province dell'Aquila, Terramo, Pesaro, Urbino e Bari ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. L'indagine è stata avviata nel 2016 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, coordinata dal procuratore capo Michele Renzo e condotta dal PM Picardi della Procura dell'Aquila, ha riguardato complessivamente 35 soggetti e ha messo in luce una serie di condotte poste in essere da alcuni funzionari pubblici inseriti nel contesto del segretariato regionale del MIBACT, che ricoprendo varie funzioni e ruoli nel contesto dell'assegnazione e controllo sulle opere di restauro successive al terremoto del 2009, avrebbero gestito gli appalti in maniera clientelare, attribuendo incarichi professionali a parenti ed amici. Secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, alcune ditte si sarebbero garantite l'assegnazione di gare d'appalto con ribassi particolarmente cospicui, ottenendo successivamente il recupero attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il compenso per i funzionari si sarebbe concretizzato, secondo le ricostruzioni dei fatti, attraverso l'affidamento di incarichi professionali a parenti e amici. Per taluni procedimenti sarebbe stata infatti accertata sia la rotturbativa della gara per l'assegnazione dei lavori, sia il relativo pagamento di somme da parte dell'imprenditore al funzionario compiacente, quale corrispettivo per il buon fine dell'accordo. Complessivamente poste sotto osservazione dei carabinieri, le procedure relative all'assegnazione ed esecuzione di 12 opere di restauro di altrettanti edifici di interesse storico-culturale. Di rilievo la procedura inerente alle opere di recupero e restauro del teatro comunale dell'Aquila. C'è anche l'ex segretario generale del Ministero dei Beni Culturali d'Abruzzo, Berardino Di Vincenzo, architettora in pensione, tra i 10 indagati finiti ai domiciliari nell'ambito di questa inchiesta sulla ricostruzione pubblica post-terremoto. È quanto emerge da fonti investigative. Le indagini quindi toccano appalti pubblici gestiti dagli uffici regionali del MIBACT. Sono una quindicina le commesse pubbliche che sono finite in realtà ad oggi all'attenzione degli investigatori. Con Di Vincenzo sarebbe indagato anche il figlio Giancarlo, architetto, che tra i 5 che hanno ricevuto la misura cautelare del divieto temporaneo ed esercitare l'attività professionale. I due in realtà sono stati già indagati lo scorso febbraio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti della regione Abruzzo, in particolare per il filone della ricostruzione passisma di Palazzo Centi, sede della Presidenza della Giunta nel centro storico aquilano. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di politica, in particolare del rimpasto di giunta al comune di Pescara con il probabile addio dell'assessore ai tributi alle finanze allo sport Giuliano Diodati. L'assessore regionale Donato Di Matteo invita il sindaco Alessandrini a non fare scelte affrettate. Il diretto interessato non si scompone e continua a lavorare. Sentiamo Paolo Renzetti. Si torna in queste ore a parlare di rimpasto al comune di Pescara e torna puntuale il nome dell'assessore alle finanze al bilancio allo sport Giuliano Diodati come possibile sacrificato per far posto in giunta ad un esponente della lista Teodoro per Pescara. Il diretto interessato stenta tranquillità ricevendo la solidarietà dell'assessore regionale Donato Di Matteo. Io francamente ho parlato con il sindaco dopo questi rumors usciti sul giornale. Il sindaco mi ha dato ampie rassicurazioni che non è assolutamente in discussione il mio nome come assessore. Io ritengo che noi abbiamo un problema qui al comune di Pescara. Il problema va sicuramente risolto perché meritano giustamente dignità tutti quelli che hanno contribuito alla vittoria elettorale. Credo che in ogni caso sia difficile per tutti, per chi lo subisce e per chi lo deve fare, pensare sostituzioni di assessori eletti. Sì, ma non solamente per questo, credo che ci sia una comunità politica che è quella del Partito Democratico che sta lavorando sicuramente per cercare di trovare una soluzione e che sia una soluzione che sicuramente tutela anche gli eletti del Partito Democratico. La valutazione sulla qualità degli amministratori si fa in ragione delle competenze di quello che hanno sviluppato nei tre anni di amministrazione al comune. Io credo che Giuliano Dodati da questo punto di vista è un punto di forza per la competenza e la qualità. Sono certo che sia il Sindaco che il Partito Democratico non sottovaluteranno questo aspetto e sicuramente saranno in sintonia con questa mia riflessione. Restiamo a Pescara. Autonoma sistemazione per chi ne farà richiesta per 236 residenti di Via Lago di Borgiano che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni popolari. Lo ha annunciato il Vice Sindaco di Pescara Antonio Blasioli. Autonoma sistemazione per chi ovviamente lo chiederà. Parliamo Vice Sindaco Blasioli dei 236 inquilini degli stabili di Via Lago di Borgiano che sono stati sgomberati nei giorni scorsi. Una notizia importante per queste persone che sono costrette ad affrontare grosse problematiche. Sì, senza affrontare il problema del numero delle persone che c'erano perché il contributo di autonoma sistemazione è un contributo che viene riconosciuto non solo ai residenti ma a chi di fatto autocertifica di essere in quelli immobili. Quindi potrebbero essere anche qualcuno di più. Per esempio l'autonoma sistemazione è riconosciuta anche alle badanti che seguivano degli anziani che sono in quelli immobili. Le 84 sono le famiglie che sono interessate da questa emergenza di Via Lago di Borgiano. L'autonoma sistemazione è una misura che sicuramente crea un sollievo a queste famiglie che potranno quindi andare in appartamenti. Questi appartamenti, a secondo della composizione del nucleo familiare, avranno un corrispettivo per pagare il canone di locazione. Ma il contributo di autonoma sistemazione garantisce anche alle famiglie di non scegliersi un altro immobile ma di continuare a stare negli alberghi purché siano alberghi convenzionati con la protezione civile regionale. In questi giorni la protezione civile regionale sta convenzionando gli alberghi dove sono stati ospiti queste famiglie pescaresi, il che significa che a seguito della formalizzazione di queste schede AIDES anche il comune di Pescara avrà il ristoro delle 200 mila euro messe in bilancio per la copertura di tutti i costi sostenuti dall'ordinanza del 4 di luglio fino al 30 di luglio. I costi dunque saranno sostenuti dalla protezione civile? Saranno sostenuti dalla protezione civile regionale perché è stato rilevato un nesso di casualità tra il terremoto dell'ottobre del 2016 e questi danni strutturali. Le schede AIDES sono state affidate a degli agibilitatori del CNR incaricati dalla protezione civile regionale che le hanno classificate nella classe E. Anche se le avessero classificate nella classe B queste famiglie erano tenute ad uscire dalle abitazioni. Questo ci fa capire quanto complesso era la situazione di questi immobili e quanto bene abbia fatto il sindaco di Pescara a firmare l'ordinanza nottetempo appena ricevuta la comunicazione dell'Ater. Voltiamo pagina. Il Forum Abruzzese dell'Acqua lancia l'allarme dopo l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato l'area della discarica di bussi. Sentiamo. Il Forum Abruzzese dell'Acqua esprime preoccupazione per l'incendio che si è verificato qualche giorno fa nella zona della discarica di bussi. De Santis, perché voi lanciate questo grido d'allarme? Quella è una delle aree più contaminate d'Europa. È chiaro che il passaggio del fuoco sopra dei terreni contaminati potrebbe aver causato alcune emissioni di sostanze pericolose. Però è un ulteriore campanello d'allarme che suona per quell'area in quanto sostanzialmente abbandonata. Cioè, quell'area doveva essere messa in sicurezza dieci anni fa. Lo prevede la legge, non è che lo diciamo noi. La messa in sicurezza avrebbe portato al fatto di tutelarla anche dagli incendi. Ecco, non è possibile che uno dei siti più inquinati d'Italia e d'Europa sia gestito in questa maniera. Noi pretendiamo la messa in sicurezza e anche ovviamente la bonifica. Dopo dieci anni crediamo che sia venuta l'ora. Noi ci chiediamo anche che cosa sta facendo la magistratura perché nel codice penale c'è un reato che si chiama omessa bonifica. Addirittura lì gli enti e le istituzioni devono ancora accertare il responsabile della contaminazione. Cioè, siamo di fronte a ritardi assolutamente inaccettabili anche contro la legge questi ritardi. sono e ovviamente poi ci passano gli incendi. Quindi un'ulteriore preoccupazione rispetto anche a questi roghi che danneggiano il nostro territorio ma che addirittura arrivano a colpire anche le aree che dovrebbero essere messe sotto controllo in una maniera forte e attenta. Restando sempre all'argomento incendi, la regione ha potenziato le attività di spegnimento assegnando incomodato d'uso gratuito quattro fuoristrada Land Rover Defender dotati di modulo antincendio boschivo già appartenenti al corpo forestale per ciascun territorio provinciale attribuiti secondo graduatorie di operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile quanto ha annunciato Mario Mazzocca sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. L'associazione consumatori Robin Hood di Teramo invita alla prudenza i cittadini che hanno ricevuto la lettera dell'Enel per ottenere l'indennizzo relativo al blackout di gennaio scorso. Il presidente di Ferdinando sospetta che nel modello da firmare ci possa essere un tranello che vada a discapito dei consumatori. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Sono circa 7 mila gli avvisi che l'Enel ha inviato ai Teramani per il riconoscimento di un indennizzo ai disagi subiti in occasione dell'eccezionale ondata di maltempo del gennaio scorso. Le lettere confermano la cifra base di ristoro al blackout stabilita dall'autorità per l'energia elettrica ma aggiunge anche la possibilità di richiedere un indennizzo aggiuntivo che si incrementa di 15 euro per ogni periodo di interruzione ulteriore a 4 ore. Basta riempire il modulo allegato ma secondo l'associazione consumatori Robin Hood di Teramo si celerebbe un equivoco anzi un tranello nel modello da firmare. Cosa non va in questo modulo che l'Enel sta inviando a tutti i cittadini teramani che hanno avuto il blackout a gennaio 2017? Il modulo va bene non va bene per due tipologie di utenti la prima tipologia è di coloro che hanno avuto più giorni rispetto a quelli che vengono riconosciuti da questo rimborso aggiuntivo la seconda tipologia è di coloro che hanno avuto anche il danno perché firmando questo tipo di modello non si può poi esercitare il diritto di avere il rimborso del danno per cui noi sconsigliamo di firmare questo modello. Ricordiamo che il rimborso aggiuntivo era un rimborso che veniva dato per coloro che hanno avuto un blackout superiore a tre giorni e mezzo e doveva essere richiesto all'enel di distribuzione. A quanto ammontava questo rimborso? Questo rimborso ammonta a 15 euro ogni quattro ore aggiuntive di blackout dopo il terzo giorno e mezzo. Allora il cittadino che riceve questo modello da Enel Energia cosa deve fare? Allora intanto può venire l'associazione che lo riempie gratuitamente e lo rispedisce laddove ricorrono i casi di più ore non rimborsate o di danni non firmare assolutamente e di rivolgersi all'associazione per la tutela. La DAICO dopo l'annuncio di 135 suberi sui 650 lavoratori degli stabilimenti di Chieti e Manopello ha incontrato le RSU e i sindacati per cercare una soluzione condivisa sull'abbassamento del costo del prodotto. L'azienda dopo la protesta ha mostrato il suo interesse a trovare soluzioni al fine di scongiurare i licenziamenti annunciati. Abbiamo scelto di sospendere lo sciopero dopo la volontà della DAICO di aprire un tavolo di contrattazione dicono i sindacati ieri nella sede di Confindustria ci siamo incontrati per avviare un confronto proprio su produttività e competitività dei tre stabilimenti. Dopo questo secondo incontro dicono ancora i sindacati portiamo a caso un obiettivo comune tra le parti, aziende e sindacato un piano industriale capace di rilanciare il prodotto nel mercato nazionale ed internazionale. Dopo circa quattro anni al vertice delle fiamme gialle di Pescara il colonnello Francesco Mora lascia la guida del comando provinciale al colonnello Vincenzo Grisorio. La cerimonia di avvicendamento si è svolta questa mattina presso la caserma Angelini di Pescara alla presenza del comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza Generale di Brigata Flavio Agnello che ha rivolto al colonnello Mora parole di apprezzamento per il servizio reso in favore della collettività per l'attività svolta per il mantenimento della legalità e a contrasto dei reati specie di tipo economico-finanziario. Il colonnello Mora è stato destinato alla sede di Genova dove rivestirà l'incarico di capo di Stato Maggiore presso il comando regionale Liguria il subentrante colonnello Vincenzo Grisorio originario di Minervino Murge in provincia di Bari ed è sposato con due figli ha frequentato l'Accademia del Corpo e poi ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all'Università di Trieste e quella in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria presso all'Ateneo di Tor Vergata e un Master di secondo livello in sicurezza coordinamento interforse e cooperazione internazionale presso l'Università La Sapienza di Roma. Continuiamo con il nostro giornale adesso andiamo a Chieti un nuovo asilo nel quartiere di Madonna del Freddo e il progetto presentato dall'amministrazione comunale. Nella zona e nel quartiere di Madonna del Freddo di Chieti a breve sorgerà un nuovo asilo nido nell'ambito di un progetto di edilizia residenziale Assessore Colantoni Sì, è chiaro, questo è il frutto di una convenzione quello che sempre di più si auspica alla pubblica amministrazione cioè poter realizzare servizi e opere pubbliche a scomputo sui costi di un'opera residenziale questo permette di avere un'efficiente costruzione un'efficiente servizio nuovo, tra l'altro nuovo di Zecca per il futuro dei bambini della città e a costo zero per l'amministrazione cioè noi su quest'opera non esborsiamo soldi in particolare quest'intervento che viene realizzato dal Consorzio Abitare Abruzzo è un extra standard cioè è qualcosa che nella convenzione viene donato in più sull'offerta degli scomputi degli oneri di urbanizzazione è un'edilizia convenzionata quindi loro realizzano circa 1.920.000 euro di opere di urbanizzazione primarie strade, fognature, acqua, luce, gas tutto ciò che serve per allestire e in più offrono all'amministrazione questo all'inizio del loro lavoro offrono la realizzazione di opere in extra standard a nostra scelta noi all'epoca optammo per la realizzazione di un asilo nido di un nido per l'infanzia perché c'è una grande richiesta in città e quindi realizzano questo nido che ha massima capienza c'è un nido per oltre 60 infanti è in completa autonomia cioè nel senso è un'opera antisismica per eccellenza in materiale ecocompatibile e quest'opera verrà ultimata e consegnata alla città in perfetta efficienza e quindi noi speriamo e contiamo che quest'opera finisca al più presto chiaro non sarà possibile attivarla per il nuovo anno scolastico però siamo fiduciosi che per il nuovo per il proseguo sarà sicuramente disponibile Torniamo all'Aquila Scuola Edile a breve termineranno i lavori per questo che è il punto di riferimento nel cantiere più grande d'Europa oltre 4 milioni di euro finanziati da Regione e dallo stesso Ente vediamo il servizio Un centro di eccellenza che sarà la nuova sede della Scuola Edile del centro paritetico territoriale a San Vittorino a metà dei lavori è stato il presidente dell'Ente Giovanni Cirillo a portare i giornalisti nei cantieri per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori di una struttura che una volta ultimata avrà aule, un laboratorio di addestramento appartamenti, foresteria per studenti e parcheggi il costo complessivo dell'intervento è di oltre 4 milioni di euro di cui 2 milioni a carico della Regione Abruzzo il resto a carico dell'Ente tante le attività che porta avanti la scuola La Scuola Edile porta avanti innanzitutto tutta la formazione riguardante la sicurezza in cantiere quindi quella ricontenuta nel decreto 81 del 2008 tutto perché un operaio e sia anche un operaio che un imprenditore per stare in un cantiere Edile ha bisogno di tutta una formazione che è contenuta nella legge del 2008 dopodiché noi stiamo dobbiamo ricambiare la pelle alla scuola e farla ritornare come era quella quando è stata formata nel 1970 di reinsegnare, di insegnare i mestieri i mestieri che tra l'altro noi notiamo sui nostri cantieri che diverse specializzazioni sono state perse mi riferisco ai carpentieri mi riferisco ai muratori a chi si lavora la pietra ai stessi falegnami vediamo che questo tipo di specializzazioni man mano si sono perse noi abbiamo la pretesa di reinsegnarla ai nostri giovani e ai nostri operai occasione per tracciare anche un bilancio delle attività svolte il numero di infortuni ad esempio grazie anche ai corsi sulla sicurezza si è ridotto notevolmente anche rispetto al numero degli occupati nel cantiere più grande, l'Aquila il ruolo della scuola è fondamentale secondo il presidente del Lance ormai la scuola è in via di ultimazione mancano pochi mesi un investimento molto importante che supera i 4 milioni di euro come sapete questo è il cantiere più grande d'Europa è un punto di riferimento per l'intera regione abbiamo 10 mila operai iscritti presso la nostra cassetile ma non solo usufruiranno di questo centro anche gli studenti quel protocollo di intesa abbiamo sottoscritto all'università faranno anche loro ricorsi di formazione presso la nostra struttura il santuario di Isola del Gran Sasso è pronto ad accogliere centinaia di giovani che ogni anno animano la Tendopoli nel nome di San Gabriele della Dolorata questa sarà la 37esima edizione si svolgerà dal 22 al 26 agosto con la consuetta grande partecipazione spirituale vediamo è tutto pronto per la 37esima Tendopoli di San Gabriele che si svolgerà dal 22 al 26 agosto al santuario di Isola del Gran Sasso il tema che affronterà la prossima chermessa giovanile è sintetizzato nello slogan alzati e va è in preghiera e porterà i ragazzi a riflettere sul loro mondo qual è il messaggio di questa 37esima edizione della Tendopoli? il tema lo dice alzati e va è in preghiera questa frase chiaramente è è detta ripetuta tantissime volte dal Santo Padre ma noi l'abbiamo presa nell'icona di Paolo Apostolo che una volta caduto a terra sentì questa voce che lo invitava alzati e va e quindi vogliamo con questa con questa frase dire ai ragazzi che è ora di finire di stare seduti di lamentarsi di piangersi addosso di continuare ad essere succubi di questa nostra cultura che ci dice che le cose vanno male e cominciare a fare un cammino nuovo a rialzarsi a mettersi in cammino qual è sarà il programma? il programma come sempre è molto impegnativo proprio è seguendo quella icona l'icona che ci sono tre temi fondamentali nei tre giorni il primo giorno proprio l'inquietudine di Paolo ma tu chi sei? perché mi rompi? il secondo invece virà il vescovo di Noto Monsignor Stagliano il quale lo conosceranno molte persone perché suona e canta durante la messa fa anche delle dimostrazioni così canta per indossammare la gente il quale risponde alla domanda cioè inviterà i giovani ad alzarsi a camminare darà la motivazione per cui devono alzarsi la terza invece conferenza è importante perché la svilupperà un attore un convertito regista Simone Riccioni il quale ci farà vedere anche in anteprima un pezzo di un film che sta preparando il quale metterà in evidenza un aspetto della Bibbia che Paolo fu preso per mano cioè l'illesigenza di essere condotti aiutati per realizzare un progetto ma anche gli adulti quanti ragazzi arriveranno? mi auguro che stendiamo come l'anno scorso su 400 ragazzi questa tendopoli sta facendo in America Latina siamo presenti a Porto Rico Colombia Venezuela Argentina Panama e adesso il prossimo settembre andremo anche in Peru insomma viva San Gabriele lo devo dire perché è meraviglioso è lui è San Gabriele che è arrivato prima di noi restiamo nel Terramano sono 19 le squadre organizzate da comuni dall'Università di Teramo e dalle associazioni sportive che si sfideranno domani alle ore 19 a Nerito di Cronia Leto per la prima edizione dei giochi senza frontiere i comuni si sfidano rialziamoci con il sorriso è lo slogan della manifestazione che si propone di rivitalizzare e far ripartire anche grazie allo sport le aree del Terramano colpite dal sisma attraverso una serata di competizione amichevole e di divertimento giochi senza frontiere i comuni si sfidano è un'idea nata con lo scopo di regalare una serata di divertimento ad uno dei comuni colpiti dal sisma Cronia Leto coinvolgendo squadre da tutto l'entroterra Terramano e anche dalla costa voglio ringraziare principalmente il sindaco di Cronia Leto D'Alonso che ha messo a disposizione tutto ciò che era per poter rendere questa manifestazione un evento di far diventare un evento bellissimo inoltre voglio ringraziare anche tutti i comuni che hanno partecipato a questa manifestazione perché senza il loro intervento e la loro partecipazione questa manifestazione non avrebbe potuto prendere vita poter poter nascere le squadre in gara si confronteranno in tre diversi giochi le migliori sei classificate si sfideranno nell'ultimo gioco a sorpresa che decreterà il vincitore di questa prima edizione la squadra vincitrice poi si aggiudicherà oltre al trofeo anche la possibilità di ospitare nel proprio comune la seconda edizione della manifestazione due i premi speciali in palio il premio simpatia e il premio per il miglior tifo ci sarà un momento di spettacolo dove oltre appunto ai giochi c'è lo spettacolo di cittadina balli, animazioni e tutto appunto per un unico obiettivo appunto per il sorriso come dicevo prima chi vincerà oltre al trofeo avrà anche il diritto per fare i giochi il prossimo anno per la seconda edizione ed ora apriamo la pagina dello sport iniziamo dal Pescara secondo impegno amichevole per il Delfino ieri pomeriggio arrivi Sondoli contro la Virtus Teramo otto reti per i biancazzurri assegno Mazzotta Capone Selasi Nicastro per Rotta del Sole con doppietta per Cappelluzzo martedì prossimo test ancora più probante contro il Teramo Jacopo Forcella altri otto gol per il Pescara nella seconda uscita stagionale stavolta contro la Virtus Teramo formazione del campionato di promozione per i biancazzurri è stata anche l'occasione per i nuovi per mettere minuti nelle gambe a partire da Simone Andrea Ganz che nel primo tempo contro i biancorossi di Moro si è preso il centro dell'attacco insieme a Leonardo Mancuso e a Capone insomma una prima linea tutta nuova quella disegnata per Zeman ma che nel primo tempo segna solamente due reti nei 45 minuti iniziali davanti a Pigliacelli che giocherà la gara per intero Bulevardi è schierato come terzino a destra Mazzotta autore della rete che sblocca la partita dopo appena nove minuti di gioco a sinistra con Perrotta e il giovane Dellicarri in mezzo anche in mediana il proscenio è tutto per la campagna acquisti estiva con Proietti a dettare i tempi Palazzi e Carraro mezziali come detto la prima frazione termina sul 2-0 per i biancazzurri al 41esimo infatti arriva il secondo sigillo firmato Capone nell'intervallo Zeman inserisce Coda e Crescenzi nella retroguardia Selasi al posto di Palazzi e concede gli ultimi 20 minuti anche all'ultimo arrivato in casa del Fino Luca Valzania davanti Mancuso lascia il proscenio Pierluigi Cappelluzzo già in palla autore di una doppietta il Tris però la firma di Selasi all'ottavo imbeccato proprio da Mancuso prima della sostituzione il poker intorno alla mezz'ora è firmato da Nicastro che insieme a Del Sole compone il tridente rivoluzionato la cinquina arriva con la prima delle due marcature di Cappelluzzo che si ripete a tre minuti dal tripice fischio finale gli altri gol dell'ex Teramo Avellino Marco Perrotta e del giovane attaccante del Sole chiudono a Ottola Contesa la numero due dell'inizio del ritiro di Rivisondoli che si sta per concludere ultimo giorno martedì prossimo prima però la terza sfida quella ormai diventata tradizionale contro il Teramo poi ritorno a Pescara prima della seconda parte della preparazione che scatterà il 29 a Palena io ho scelto Pescara proprio per questo perché voglio rilanciarmi voglio comunque dimostrare di essere un giocatore importante un attaccante importante penso che questa sia la piazza giusta con l'allenatore giusto per cui poterlo fare l'interesse delle altre squadre ci sono state anche il Presidente lo sa però io avevo fin da tempo d'accordo con loro e c'è stato mancava l'accordo tra la Juventus e il Pescara io avevo l'accordo già da quanto? da un paio d'anni un paio d'anni quindi io l'ho visto proprio serenamente perché comunque sapevo già quale sarebbe stata la mia destinazione è la prima partita ancora non si sa non so proprio al 100% cosa voglia il mistero da me infatti mi ha mi ha spiegato poi parleremo ancora dalla punta centrale vuole soprattutto le sponde per poi ributtarsi dentro a me piace ogni tanto fare anche la giocata però adesso miglioreremo anche su questo poi come ho detto più che far la giocata devo pensare solo a fare gol per le mie caratteristiche è normale che a due punte fatico di meno però dipende tutto dal gioco che che ha una squadra nel 4-3-3 di Zeeman giocando sempre palla a terra per me è l'ideale perché giochiamo sempre sui tagli e soprattutto Zeeman vuole sempre che attacchiamo e quindi più occasioni ha un attaccante più ha possibilità di fare gol Scendiamo di categoria il nuovo arrivato in casa Teramo l'esterno Cristian Ventola si dice contento di essere arrivato via Pescara proprio alla formazione Biancorossa e consiglia anche il suo ex compagno di squadra alla maceratese Lorenzo De Grazia di percorrere la stessa strada De Grazia che sembra tornato ad un passo dal diavolo vediamo Cristian Ventola da una squadra biancorossa a un'altra squadra biancorossa dalla maceratese al Teramo passando solo per qualche giorno al Pescara una nuova avventura differente diversa sempre in terza serie sì l'anno scorso il macerato è stato una bellissima stagione a parte per le vicende societarie sono molto contento di essere qui a Teramo e quest'anno voglio fare molto bene e puntare in alto con questi colori senti sei stato il primo vero obiettivo del Teramo di questa di questa stagione il primo giocatore su cui è andato il Teramo sì questo mi fa molto piacere perché mi fa capire che la società punta molto su di me sono stato molto deciso sulla scelta di venire qua a Teramo perché voglio fare bene qui e mi piace la città la città comunque mi è sembrata molto buona e sono pronto a giocare per questa maglia l'inserimento sarà un po' più semplice perché la retroguardia ha forti tinte bianca-azzurre c'è Diallo c'è Pietrantonio c'è Calore sì sì loro sono stati i miei ex compagni di squadra in primavera quindi già ho molta confidenza con loro ma comunque penso che di trovare subito confidenza anche con gli altri compagni di squadra e sarei un bel reparto forte là dietro che idea ti sei fatto del campionato scorso del Teramo tu l'hai giocato con quello della maceratese che sembrava dovesse arrivare dietro invece è arrivato davanti se diciamo che si è salvato con relativa tranquillità io penso che l'anno scorso il Teramo rispetto ai giocatori che aveva non ha rispettato le aspettative era una squadra molto buona però può capitare che ci sono andate negative speriamo che quest'anno di fare meglio dell'anno scorso un piccolo parentesi di mercato te la sentiresti di consigliare al Teramo Lorenzo De Grazia con cui hai giocato l'anno scorso è un buonissimo giocatore un'ottima cosa un'ottima tecnica avrebbe una grossa mano al Teramo è tutto anche per la seconda edizione del TG6 prossimo appuntamento alle 23 buona serata per la seconda